Il significato della parola panfocus è molto semplice, significa che tutti gli elementi che compongono una inquadratura sono a fuoco. Panfocus questo significa. Però per quanto riguarda la messa a fuoco degli elementi che compongono una inquadratura, vi ricordo, vi sottolineo, che questo non deve dipendere dalle condizioni di luce dell'ambiente in cui state girando, della scena che state girando. A volte succede che uno apra molto il diaframma perché non c'è luce e questo chiaramente soprattutto nelle piccole produzioni quando non ci sono così tanti soldi bisogna un po' adattarsi. Però ricordatevi che la scelta del fuoco è una scelta registrica importantissima. Siete voi che dovete decidere chi deve essere a fuoco e chi non deve essere a fuoco, che cosa sì che cosa no. Sono delle scelte registiche. È chiaro che per avere molta profondità di campo e nel caso del panfocus bisogna avere un diaframma molto chiuso, però è anche chiaro che voi se avete un diaframma molto chiuso e molta profondità di campo, per esempio se lavorate sempre in automatico, cosa che non bisognerebbe mai fare, col fuoco in automatico per carità, se voi fate così evidentemente le vostre immagini sono piuttosto piatte perché manca questa scelta registrica. La scelta cioè che decide, evidenzia, sottolinea allo spettatore che cosa deve essere ben visto e che cosa non deve essere ben visto.